I'm the bad guy, duh. Ritorna a Invino Civitas, ritornano le persone a gremire la stazione marittima di Salerno, ritornano le eccellenze enogastronomiche italiane. Siamo molto contenti di essere qui e fa piacere finalmente che dopo un anno di sofferenza, un anno e mezzo di sofferenza per tutti noi qui, finalmente riusciamo a essere di nuovo tutti insieme a assaggiare grandi prodotti locali e di tutta l'Italia. Ecco, nello specifico, in questo stand, in questa azienda? Qui ci troviamo, zona siamo alla Tuscia, quindi siamo a Bassa Toscana, parte ovest dell'Umbria e Alto Lazio. L'azienda siamo a Famiglia Cotarella, abbiamo la maggior parte dei nostri terreni in Umbria e Lazio e una piccola realtà a Montalcino. Qui parliamo di, abbiamo in degustazione quattro vini rossi, di cui tre del Lazio e uno di Montalcino e un metodo classico Pinot Nero, 18 mesi sui leviti e due vini bianchi. Il nostro ferentano è un vitigno autotono del centro Italia che si chiama Roscetto e un vigno in purezza.